I campi elettromagnetici rappresentano un tema ambientale di estrema attualità, visto lo stretto legame che hanno con lo sviluppo delle moderne tecnologie. Quando si parla di basse frequenze ci si riferisce al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica con i classici elettrodotti. Se invece l'argomento sono le alte frequenze, l'ambito è quello dei nuovi sistemi per le telecomunicazioni, come ad esempio i classici telefoni cellulari. La crescente domanda da parte dell'utenza porta ad un potenziamento degli impianti. La provincia di Bolzano punta alla tutela della salute pubblica. L'elettrosmoke è proprio un argomento molto sentito, per cui l'app si mette in campo con informazioni, ma anche con dei controlli, ma anche in una forma di dialettica col gestore di questi impianti, per cui proprio nel servizio e nell'interesse dei cittadini. Abbiamo un obiettivo molto basso, dicendo di mantenere il livello molto basso a 3 volt per metro. Abbiamo in Italia la sua di 6 volt per metro e in Germania, Austria e Svizzera 40-42 volt per metro, per cui proprio un obiettivo di qualità molto interessante. Sarà difficile mantenere questi 3 volt, magari dobbiamo un po' salire a 4 volt per metro, però comunque vogliamo garantire ai cittadini questa nostra attività, nell'interesse di mantenere e salvaguardare la salute di tutti noi. Come ha specificato Luca Verdi, direttore del Laboratorio di Chimica Fisica di Bolzano, attualmente in territorio altoatesino si contano 736 impianti per la telefonia mobile. 639 di questi sono di ultima generazione per garantire lo scambio di dati ad alta velocità. Il maggior numero delle stazioni radiobase, che consentono la connessione tra cellulari e banche dati, sono nei centri abitati. La situazione in Alto Adige, dal punto di vista dei campi elettromagnetici, è molto soddisfacente. Se confrontiamo la nostra situazione con il resto dell'Europa, possiamo dire che l'esposizione della popolazione è molto più bassa. Questi valori siamo riusciti ad ottenerli, da una parte offrendo degli edifici pubblici su cui noi possiamo deditare le condizioni, però d'altra parte anche il gestore è interessato perché trova un sito e dall'altra parte ogni singolo sito viene valutato da noi, assieme ai comuni, assieme al gestore e cerchiamo in questi siti di realizzare quel campo che effettivamente è necessario, da una parte per garantire un buon servizio, dall'altra parte appunto di tutelare al massimo la salute della popolazione. L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, meglio nota come APPA, nell'ambito dei festeggiamenti per i 15 anni di attività, ha organizzato una giornata delle porte aperte presso la sede del laboratorio in via Ambalagi a Bolzano. Per informazioni è possibile visionare il sito internet dedicato.